amici sportivi amici fanta allenatori buongiorno ben trovati dal vostro veterano del fanta calcio un buongiorno a tutti voi come sempre cerchiamo di essere di supporto a tutti gli amici fanta allenatori agli amici del canale a quelli che seguono da vicino il veterano il consiglio anche suggerimento quello di supportare il veterano in tutte le forme quindi condividendo il video che state leggendo che state vedendo e condividendolo anche tramite un like un passaparola che può essere davvero di molto aiuto per il canale del veterano oggi parliamo di alcuni giocatori in particolare cinque giocatori che possono essere acquistati negli scambi in queste ore visto che sono un po sottovalutati e visto che soprattutto non si sono ancora espresse il vero di bonus sottovalutati non è il termine corretto ma è non sono corresposti del tutto e quindi può essere davvero molto molto utile andare a puntare su di loro sono cinque giocatori partiamo con zappacosta dell'atlanta zappacosta un giocatore a quale piace tanto avere bonus che sia assist o che sia gol pesante occhio solamente la condizione fisica un buono scambio per lui potrebbe essere una buona dose di innesto nel posto fantacalcio visto che è un giocatore a quale piace giocare mediamente nella linea di centrocampo e quindi avanza spesse volte a centrocampo vi do due giocatori molto interessanti parliamo di baldanzi la recente variazione di guida tecnica dell'empoli potrebbe far beneficiare il talento andar 21 italiano e quindi su baldanzi ci puntiamo fortemente oggi lui effettivamente è un po sottovalutato non è sottovalutato invece good moonson del genua ma ancora non ha avuto bonus pesante quindi qualcuno potrebbe essere un po tentato anche da dal cedro magari scambiandolo con un nome più altisonante altri due giocatori poi andiamo a chiudere questo fantastico video e veloce video che però voglio darvi sempre come supporto come spunto di riflessione parliamo di faraschelia e di carson faraschelia del napoli e carson del bologna perché vi faccio questi nomi qua ancora non è entrato nelle grazie completamente da parte di rudy garcia ci entrerà è un giocatore che sa fare molto bene la fase difensiva la fase offensiva è un giocatore che usa molto bene tra i miei piedi deve farsi e da marzo che non segna quindi è giusto che appunto il talento giorgiano sbocci in queste ore è un po sottovalutato quindi il momento giusto per rendere la fante calcio occhio anche a carson invece lui è un giocatore che sa fare molto bene sa calciare molto bene il bonus se nelle sue corde ancora non si è espresso in maniera definitiva ci è andato vicino molte volte ci arriverà quindi soprattutto che visto che è stato attaccante potreste farci un pensierino e cercare di portarvelo a casa quindi ripilogando zappacosta in difesa centrocampo gudumusso nel baldanzi in attacco carson e faraschelia questi sono i nomi che oggi devono essere presi negli scambi puntando magari a lasciare sul piatto qualche nome più altisonante a livello di solo di nome un abbraccio e a presto vetrano ciao ragazzi